chi è un turbo va bene, è esposto ah, c'è che è turbo or coccan tanto Luca è entrato, entra anche Bruno Bruno, ti puoi mettere però il tuo nome le rivalteron le rivalteron addio, sono messi bene si, si, Gabri si, si, Gabri, stiamo spettando la gente che sta entrando magari a fine live, Ivan chi è qua? orco cambruno no, mi dissocio mi dissocio mi dissocio altamente mi dissocio altamente ciao, Gasparre ciao, Cree con i like, raga comunque domani provo le forze live di pomeriggio adesso vediamo guarda che brutto no, tu sei brutto tu sei brutto tu sei brutto guarda no, no, c'è pure turbo, raga oddio è un disastro adesso se c'è pure turbo è un disastro noi siamo però i seri, eh siamo però i seri adesso verifichiamo subito adesso si verifica Luca, Luca, sei tu dove? eh, Luca sei tu dove? vieni qua da me è talmente serio guarda come che lascia bene ai camp cosa c'è? no, non l'ho fatto io, eh eeeh oh, non tocca frumento e non tocca orzo non tocca soia in che senso no, a peh, a peh, a peh no si, guarda qua le scioglio qua via no, a me è quella dice tutta vena no cazzo è tutto orzo è tutto orzo dai che noi andiamo a taroccare i fos taroccare quei fos eh sì guarda che è tutto orzo ma se tu che sei in particolare oh, Luca dopo passi via con quelli altrimenti dai, salvo se vuoi venire la salva venghi pure è aperto a tutti pc console, raga c'è solo mod il polaggine e basta no, aspetta guarda sotto qua no, sotto qua cosa? no, perché eh, passi per finire la solita passi ah, eh, che non racconto i miei vicini a soli i miei vicini a soli si, betta no mi dice tu un po' svegliato da tu dove? ma, 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 ma questo ma, 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 ma che cazzo ma, ma sembra Iron Man vabbè eh, adesso, adesso vedo ma, 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 ma questo ma, 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 ma questo ma, 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 ma che cazzo ma, ma sembra Iron Man sono io che decido sono io quali capo di capi a finire la missione pare no si può andare avanti per la missione cioè si può che portare al mese prossimo raccoglie avvena a già raccolto portare a scaricarlo ok ma bene il partito al cane lui è lui e male qua ma comunque non è chiuso come anche ammesso colpa di frey ma vabbè se serio frey ma non sono vuoti ragazzi siamo in quattro venite venite perché gli operai che tra bia qua e tra bia pro finita all'erba l'apposto ea se mi sarei da utilizzare 156 sarebbe un primo lavoro cosa che succede e come perché ogni volta che ti è molto sentito in trattore al tacca in pittarci guarda sì io povero o matteo o così o se no è un sempre dopo finiremo un top 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 per tutto e sinceramente io non voglio per vedere se ho visto ma un mezzo che gusta ovvero che mezzo adesso test ma ne ho qua cosa che gusta ecco chi si chi si chi la raga con i like siamo a 426 like posso almeno 425 cento la raga ma tu vuoi parlare o neanche no è mutato credo non lo so comunque come state comunque ragazze t'ho posto ciao ale come un notatore non c'avevamo soldi raga siamo debitati se non sbaglio pure infatti sono anche debitati ah metti se bisogna fare anche eh finito in sky ora meno 85 meno 895 quando altri ci appena è pagato no vabbè una domanda come è indicativo ma sei lato no a posto ciao Enrico oh guys io ne do belle arature da poter farti mette l'operaio ma sono madonna che senso Enrico dunque non si mette in Enrico in chat mi spiace anche il turbo lo fa no dai porre il turbo oh luca eh si luca luca si ok io ne do arature da far le fone con l'operaio vanno a fertilizza or coccan eeeh mette l'operaio no perchè no allora facciamo così a quanto pare qua non c'è un cazzo da fare eeeh si può dormire raga si può dormire si può dormire muovete guess a 04 Gabri ma ti sai che l'elettro vai mate va dai 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 un problema anche se la missione salta oh che è successo sta calmo turbo leone è anche mai antero eh scrivi mi sono le due tranquillo Enrico allora gennaio cosa è da far cosa è da fare di bello attivazione bella con il shayer è vecchio allora le barbabietere quale che si raccogliono stai qua ah ma settembre ottobre minchia oggi penso io a fare una coltivazione metterlo carai allora aspetta si è finita da mettere sono due coltivazioni ti preso gli oggetti ti preso gli oggetti o no ho già fatto a posto poi c'è una coltivazione fate quello che volete io vedo di fertilizzare sto campo qua se fertilizzo adesso spero di sì però si può mettere l'operaio teoricamente non c'è potere però te li possono mettere dov'è che sei Bruno è già a posto Bruno ha già i poteri te l'avevi chiedita l'altro sì no ti dico appunto ti dico che hai i poteri ma no io ho poi no perché ho perché non fertilizzare le barbabiette da zucchero ma che cazzo ne so boh bugate manca Tommaso sì la ritiro la ritiro guys dove ho il campo soldi eh 109 109 chissate un becchere guarda la mappa signor Matte ma in caso sto qua a posto lei no sì hai bisogno di una mano hai bisogno di una mano no hai fatto presto oggetti o hai fatto accetto e basta chi tu cosa hai fatto no presto oggetti ah è bonbon perché monca altre trebie no ma è coltivazione raga credo ah coltivazione è coltivazione sì ma gli erbici rotanti orco can insomma sì però piccolini comunque auguro a posto bella ciao franco Luca non c'è la password non c'è la password discord ragazzi discorso te la accette ti consegna ti porta a casa il camion dopo te cosa te ciappa il trattore con l'aratro e te il porta in te il camion capi? se non ti cancelli il messaggio sì Enrico è la proprietà che l'operaio puoi te fai un bel lavoro beh insomma comunque con gli erbici insomma io da pc ma si può andare anche da console da ps che non l'ho in che senso che non l'ho comunque si può ah da pc no raga mi sento solo da da disco perché questo era un disastro come la prima live era un disastro lo seguivo un cazzo comunque ciao Tommaso ma pensi a me che ciavalla che pensi questo qua ma manca te adesso e manca i taruchi e anche i canoni comunque 109 minchia oh ma facciamo così ma se non leggiamo un paio di cose di cultivatori sì ma lei ecco non leggiamo due dai sti cazzi raga per un po' i soldi te sei senza sky no no dai 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 facciamo un po' di conto cazzo me ne frega i soldi prima o poi li facciamo allora cultivatori piuttosto non leggiamo pochi di aratri ma arati ma che arati 5000 5000 minchia scarto ed uforico minchia quanto andrà la missione 6000 ma la minchia è euro è inutile facciamo un cazzo arare sarebbe ma arati piuttosto facciamo così poi soggetti qui prendono due arature no è una aratura allora aratura campo 141 ok appunto mezzo mi sono del contratto effettivamente sì giusto si chiama guys04 dunque vi aspetto anche su twitch ragazzi dei tiktok allora ah qui bisogna portare a casa tutti i nostri mezzi se qualcuno appunto entra non sa cosa fare vi ho trovato il lavoro turbo turbo non lo so raga è partì col cingolato non l'ho più visto è qui nel negozio turbo ma ciò che è un altro più grande tubo dipendono un altro è meglio non lo noleggia bravo ma questo qui 3 metri ma dove bastare questo sì no no aspetta arrivo ehi allora campo 141 ho detto no 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 il coltivatore ma lo posso fare questo giro qua facciamo il solito giro 27 non tantissimi non lo trovo se ragazzi dentro ragazzi qui vuol dire che è online gabri è scelenti dal multiplayer in continuo per un primo o poi te lo trovo tranquillo brother comunque siamo in non sono in tanti siamo in 5 4 siamo in 4 quindi ce n'è di posto ce n'è ce n'è di posto allora se io vado giù per di qua noi siamo appena arrivati ci sono già mesi al lavoro beh è il tempo delle persone di entrare cioè io ormai noi invece lavoriamo grazie turbo grazie turbo ti voglio bene pensi a che bel che c'è lì è andare col vervait o col plover il polesine Alberto con gli interattori diretti Luca fare missioni in fertilizzazione o fare camp fare terzismo eh beh orco can dai Luca questa è la tua futura macchina avete persone in che senso user oddio quale è questa al 6R ok ok no 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 ecco signor turbo e adesso si tu ci sto portando a casa alla fine no no te mi affende oh no bravo turbo se devo ripristinartelo dimmelo che futura ovvio ovvio user o sennò perché c'è come a a farming cristo oddio stavo per andare giù nel canale di nuovo vabbè dato che qualcuno nel canale è andato giù a me ci manca tanto così però va bene ma in ogni caso posso mettere comunque l'operaio a farlo curioso giocando user allora vieni a giocare con noi dove non si avrà aperto tutti senza niente adesso va a scaricare la mappa di po' l'esine e basta gas04 si gas04 e poi tutti i miei youtube e cose varie vicine la vedi comunque ah è tutto comunque ce l'ha fatto è arrivato male male no c'è solo la mappa che è modo user che è il po' l'esine tra l'inemodab ah ragazzi forse mi sa che per chi non ci trova aggiornate il gioco all'ultima versione perché mi pare che oggi sia stato aggiornato o ieri sia stato aggiornato il gioco quindi mi raccomando controllate eccolo controllate appunto avere l'ultima versione mi pare la 1.12.0 bello Luca tipo mappa il po' l'esine è giusto fare il ps ah se la ps ah bello ora se la console devono pagare l'abbonamento effettivamente quella è l'unica cosa me lo ricordo me lo ricordo me lo ricordo no oddio non serve il password non serve non serve più avanti però si metteremo più avanti si fino a basso del cazzo metteremo più avanti eh meglio finché non vedo danni da persone che entrano così a cazzo di cane è un conto no nord-est no no nord-est po' l'esine bella anche la colina toscana ok è po' l'esine si gabri si si vai tranquillo vai tranquillo matte è veloce mi sa bah siamo lì siamo lì siamo lì non lo so si sta si sta di usare comunque vi ricordo chi non è follow out mi raccomando è un follow che è gratis io comunque sono storto come no chi non lo fa è bannato vuoi stare nel vostro comunque se vuoi entrare nel server vieni vieni dio vieni vieni ok piano non ho capito perchè turbo non parla turbo se ci senti apri i fari allora ci sente però non capisco perchè appunto non parla chi turbo chi si non dovrei cioè non si potrebbe fare questo raga ma va bene così diciamo che va bene lo stesso ok come fare questi lavori qua guys in che senso si fanno guarda che lag che te tira adesso il sabletto tanti mezzi insomma ma guys quando è che hai comprato il t-shirt sabato ma te lo danno all'inizio in teoria al t-shirt non me lo ricordo no non me lo ricordo in caso comunque riuscire a riappero delle live su youtube dal queen dal 16 perchè si fosse appesso qualcosa ciao io volevo dire martedì quando hai fatto è che ci sono dei problemi di percorso ovvero ovvero ero a trincare beh i problemi di percorso però non sono brutti no dai allora hai sempre che lago o sono io che lago tu che lago sei te ok ok un buon sono da te gradinato da te da te da me si da te da te è sicuro da te è sicuro perchè ho visto ho visto il radar che insomma anche la battesta o sbaglio vabbè avrò fatto il 99% di che cosa distrutto di danni ah perfetto siamo nella nostra barca oh i pannelli i trattori distrutti o no quindi estremi roba solida no no ma parabrezza a posto avevi trattori fuori ah è buon buon ah ma con quella almeno quella no perchè se ti spacco un vetro orco can ma i pannelli e niente non ci siamo fatti i pannelli perchè erano contrari alla tempesta che culo e vai turbo buon adesso vai mi beh forse conviene arare porco can non tira un cazzo ok eh qua il coso il trattore insomma un po è un po' così e valtre non c'è siner che è scritto che cazzo è di preciso però mamma mia che schifo ci metto cazzo mi vuole comprare un valtre va a far che va in metà no no scherzo ma vai ah eh ho già portato a casa il trattore domani sera facciamo among us se non sbaglio Mirko però probabile che stream il pomeriggio domani anche cioè faccio pomeriggio e sera dipende 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 cosa da fare eh vanno a dare il poinot ah vanno a dare il pite ah già a posto il pite non c'è a posto non c'è a posto quelle fa fortuna ma ma te va avanti sto contratto perché non c'è mai che non coltivesso giusto quello da dietro Enrico se sicuramente mamma mia a me c'è l'operaio che altro maledetto sì ma mi sono direi un altro campo sono direi a ciò un altro mission uscita fmp sky per 3 euro per 3 euro mi lascia giocare dio da dove sai pc console ciao Rudy chi è Rudy Rudy fove night non lo so ps4 il gioco è stato aggiornato da ps4 ok giusto effettivamente quello è giusto è già un'altra mappa dio mi raccomando deve essere aggiornato tutto deve essere aggiornato si era il contrario silenzio lo so farò silenzio la puzza te c'è ma scusate Mirko in che senso tu direi 3 euro per lasciarlo giocare cioè che cosa significa no ragazzi è arrivato uno che ha cambiato nickname perché è brutto frame no chi perché dennis che ha cambiato nickname dennis is figo era meglio dennis farmer dennis is giusto perché 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 dennis voglio una motiva comunque grazie per il bit buonasera bello ma non è giusto in che senso non è giusto non è giusto che cosa qual è il soggetto che cosa vuol dire dico come tutti eh vero sì perché verchiù ha assetto mine non ho capito esatto non ho capito un cazzo dennis che cazzo vabbò hashtag isato vero esatto perché la sera gioca a lui nel caso vabbè Mirko che vuol buscar che cosa che vuol taru car però ah beh quello si perché porto ah ok si ma però ma il dennis era storico quel nickname era troppo storico vabbè chi è morto? ma 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 turbo è morto lui è morto turbo fate provi a scrivervi l'ho trovato top per due mesi cambio tranqui sarà guys che mi avrà fatto paura può anche essere allora avete no no mi costo ricerci un cano stai che cazzo vuoi da me si 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 sta stava stava stando manovra Matteo cambia l'operaio perché mi si fa paura guarda che arrivo orco cane dennis cosa mi racconti comunque dennis vieni a fondo che l'hai diretta no qua perché c'è un start beh ciao tu l'avevi visto di cosa hai visto? un guys che fa il scemo beh quello normale comunque guys cosa ho detto vado da guys perché noi stavamo lavorando sul server e ho detto andiamo da guys a dargli una mano eh questa è una cosa molto bella infatti guarda come stai fatturando io qua vedo solo spese però va bene eh perché tra poco si è normale guadagni è normale di 670 sono su discord allora entro ovvio ovvio entro entro addio turbo 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 2 turbo turbo 3 turbo morto silenzio silenzio ha parlato è vivo no io io posso il cambio dai bro raggiungiamo 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 fatemi smontano matteo povero non manca matteo state calmo c'è da fare sì 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 c'è qualcosa da fare tranquillo Alberto raggiungiamo magari così sì la so user reagire al contrario però vabbè dettaglio cioè in culo dove no detriti a bocca è la madonna matteo ti prego no o se no ti buto fuori dai gay e non ti segui un bodyguard però appunto erico oh ma dennis vuoi venire a giocare quindi no dai ti spostiamo solo se giochi fa danni quello va bene dopo si ti tocca mettere la pass cosa c'è da fare a proposito sì siamo in quattro ah cinque chi è questo qua è su twitch gabri che è travegli il link chi è jordan michael jordan non te conosce no una scarsa scusa ah la sto è vero non lo spostiamo quell'altro lo spostiamo sì o no dai raga no 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 alla prima sono stronzata che dice è fuori va bene ci sta perfetto a posto do cazzo sei ah ecco qua dennis ok vabbè che se non hai grazie voglio farlo io ma va bene c'era c'era buonanotte notte 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 che cazzo me ne so a tre diamo è figa mate va perché mi fammi entrare ci ha fatto che sto multipliare ah madonna si combina danni qua mi pare che sia quello ma guys come mai non ha fatto tante farm questa volta solo perché qua il problema no di solito ne fai 100 ma siamo in 4 alberto appena entri te ne faccio uno uno che fa solo trinciato uno che fa solo un momento ho usato cosa c'è a proposito dell'usato bravissimi beh c'è insomma questo qua la vuoi escono scale andare in fallimento ma sono già in fallimento domanda ma si gira sto coso qua o no il ratro ah gli spiegano aspetta eh no ah ah denis ti prego me lo dica gira ratro b arco cane ecco ci m'ho fatta me lo dica mi vado a scappare in che senso gabri me lo dica me lo dica in che senso mamma mamma voglio no no sto f***ato fermo te oh e io alla prossima alla prossima eh ho capito buona serata è niente è niente se l'ha cercata se l'ha cercata stavolta ieri sera è entrato tipo un pugliese nel discord di montello pugliese si si da forza e che ha detto il pugliese sono curioso ma mandatelo mandatelo anche qua ah promessa ah beh ok ce l'ho ok ok capito tutta allora ragazzi muta un attimo la live guest04 col basche devo mutarlo veramente si ti devo dire cosa gli ho detto aspeh aspeh che che Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, 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 no. Stavo già vedendo i danni io. Anch'io. Cioè? Che danni. Oh, vi lascio qual va l'altro? Ci sono tutti i coglioni di... Metti l'operaio. Di fatto. No, no, no. Mi sono votato di persone qua. Il fender. Il fender, ragazzi. Dove... Cioè, a portar giù la trebia. Eh, la faccio io, infatti, adesso. Io si sta morando molto male. Cioè, ti ha... Ha buttato fuori il server o... O cosa? Guarda, Denis. Guarda che non termina sull'operaio o sull'altra. Ah, eh, appunto, appunto. Qualcuno sarà entrato che vuole errare. Scrivi che c'è l'altro libero. Beh, mi sei sovistare meglio. Quelli che entrano... Oh, quelli che entrano escono anche. C'è solo Zio. Se entrano, entrano. Zio Rock. Zio Rock, Zio Rock. Oh, dai, vai. Giù, la lasciate su. Chi è Zio Rock, raga? Quasi finita la missione. Sì. Quasi. Quasi. Non è vero. Sì. No. Hai le prove? Sì. Io. Allora, c'è il campo da... da rare, Alberto. E niente. Comunque, se hai le prove, quali sono? Che ti ho visto nella realtà, anche Lucas, commento che ti ha visto e... Non è vero. Però la sorte ha deciso che sei una scimmia. Beh, anche tu sei una scimmia, allora. Tutti sei una scimmia, eh. Anche tu sei una scimmia. Va bene. Sì, allora, io già sei una scimmia. Perché, Enrico? Che cosa vuoi? Vabbè. De l'amore, questo colpo. Mi ha visto il colpo. Io l'ho capito, però è meglio così. Questo? Va gli schei, come ti state scimmia? Allora, allora, allora. Va gli schei, vai, va gli schei. Ho visto, ho visto gli schei. Ho visto gli schei. Allora, allora, signor Dennis, se vieni in vocale, non dici cose bannabili. Vero? Adesso, entra. Tipo io che prima dovevo dire una cosa, gli ho detto, muta la live, sono stato onesto. Vabbè. Effettivamente sì. Si viene a giocare, sì. Vive i terroni. Ovvio, va bene, Dennis. Comunque, Enrico, se sei da computer... Guarda, io... Non hai problemi da Twitch. Se sei da telefono, non fai niente con Twitch, perché fa schifo. Ciao, Michele. Perché sono i miei ponzi? Ok. Perché Juice non riuscì a stare dentro? Perché ha tre bimbo in nulla qua? Perché Juice? Juice, sei da console? Eh, ma quella... Ah, ok. Adesso una. Ma si bagga tutto su come si bagga. Aspetta. Eh, User, allora l'unico è quello. Devi avere il PS Plus. Juice, che cosa hai? Play o... O l'altro? E l'unico è l'altro. Ma si bagga il giugo. È lo possibile? Sì, 41. Enrico, fa schifo. Cioè, Twitch da telefono fa vomitare. Discord viene su Twitch da col vasche. Qualche è un? Play. Mmm... Hai tante moto scaricate? È aggiornato il gioco? Tutto aggiornato? Sì, perché ovviamente se no non potevi entrare. Ehm... Ma può essere sì che da play ti fa entrare un po' e ti fa uscire subito. Ok. Motivo? Si, hai raggiato il giugo, ma si bagga. Eh... Cosa devi fare? Oh! Riavvia la play col consigliano. Dai, c'è qua la missione della Rattura, scusa. Io? Perché? Ma perché? La faccio anche 2.000 euro. Fattore, perché? No, vale 6.000 euro. Tenga che è il doppio parto. No, tenga la ciotura, la 2.000. Sì, esatto. Invece il giugo. Ah, beh. No. No. No, 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 no. Non l'ho preso io questa, raga. Ah, sì, ce n'è una del 58. A posto, non c'è più. Provano a avviare, giusto. Sico Vascoe, però il link è su Discord. Eh, è su qui c'è il link di Discord. Ferma, stai ferma. Sì, che è qua. Trebbia. La trebbia. Eh, la trebbia. Dennis, dimmelo. Viennazio. Oddio. Ah, Dennis, state calmo, eh. C'è, c'è, guarda qua. Comunque, ragazzi, non perdiamo, tra poco, io direi che possiamo andare avanti con il gioco, eh. Così possiamo un po' trebbiare, un po' fare altro. Va a dormire, va a dormire. Ah, no, a dormire, perfetto. Hai la scissione attivata? Sì. Non credo che a febbraio si vai a trebbiare. No, lo so, ovvio, ovvio, ovvio. Allora, ragazzi, ha accettato di dormire. Ha accettato di dormire, se no è una, è un espelli. Un po' di base che ho torno a fare. Ho torno a guinare. La parola è la mosca, parola. Lo sbappi. Io c'è. Sarebbe da rifiutare, sarebbe. Ah, ok, posso. Oh, lei è da loro. Allora, se dorme... Sì, lo so, Enrico, fa vomitare. Oh, raga. Cazzo è. Dai, raga. Vi, vi, vi prego. Le passa via le cinque tiri. Le passa al cinque tiri per la porta in casa. Dai, ragazzi. Oh, non ci sono missioni che valgono soldi. No, nel caso comunque... E questo è stato vero. Andiamo avanti fino a giugno? Sì, ciao, mi cosa. Andiamo avanti fino a giugno, così è una seminare. Metta un attimo. Oh, Dennis, rifiuta, rifiuta. Dennis! Fuori, 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 fuori. Fuori, 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 fuori. Dennis! Mi ha scattato, io buono. Mi sono incastrato, un attimo. Vabbè, via, va a farlo. Te la lasso così, te la lasso. Sì, ma... Avanti che te vai avanti con il time message che... Oh, accettate! L'ho accettato, io. Pronto? Perché ricordate che cociole è crash. Andente, a povertà. Accettate, raga. Cazzo freddo. Guys, c'è un... C'è un clash out a 79.000 euro. Eh, ho visto, però... Non mi sembra il caso. Oh, guys, guys. Hai il telefono portato di mano, te? Perché? Perché sei dovuto più o meno di ciò? Devi andare su Instagram e cercare una persona. E seguirlo, solitamente. Mi sa me, Luca? No, 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 no. E chi, allora? Vai su Instagram. Le avventure del cinghiale. Vedi che guarda se c'è qualche missione che vale solo. Alla sua debito, via. Oh, c'è una coltivazione. Vai. Cazzo, no, no, no. Avanti, no, ma... Dai. Fino a giugno. No, fino a giugno. Non avranno tirato. C'è proprio avanti la missione. Ah, la città, bombone, città, comunque. Ma secondo ti. Ah, è bombone. E quel che dicevo io. Uffa, vuh. Uffa, vuh. Cazzo. Ma Rocket è prima, comunque. Cerca le avventure del cinghiale su Instagram. Le avventure del cinghiale. Lo cazzo è il mio telefono minchia, raga. Andai a fingire un phone. Tu palle. No, ma guarda qua. L'ordine non è mia veglia e sua. Grazie. Tasta, tasta, tasta. Va a tastare. Un fia. Sì, che è? Ho visto un salame. Guarda qua il salame. Oh, raga. Accettate sta cazzo di... Oh, porca di quella puttana. Allora, le avventure di cosa del cinghiale... Dennis, Dennis. Dai, ragazzi, non scorreggiatevi. Vi prego. Sì, che è un esamino. Le avventure del cinghiale. Eh. E la scorreggia? Sì, è il questo. Dai. Ma vado. Oh, raga. Basta che ho butto fuori. Che ho butto fuori Dennis, stop. Non fai a me, sono stato mio amico. Le avventure del... Cinghiale. Un favo. Il cinghiale è un favo. Un favo. Oh, guys. Ci sono le scemi da fare. Non si può andare... Non bisogna andare più a... Ma le scemi... Ma le scemi di cosa? Le scemi da fare. Cazzo è andata via. Ce n'era una che voleva... Ma che ti fai... Andiamo avanti finché non dovevamo fare qualcosa nel nostro terreno. No, io assedio, se voglio fare. Dai, si dorme, avanti. Avanti finché non sono pronti. Fino a giugno. Fino a giugno, raga, si va avanti a dormire. Fino a giugno. Fino a giugno. Fino a giugno. Mike. Mike, fuori dai coglioni. Ma che bella roba. C'è, uffullo, uffullo. Ma che bella uffullo di mate. Carle. Hai trovato, guys? Ehi, l'ho già messo a segui. Ma vai in video. Mi senti la tua vestita, Drio. Beh, mi senti off-stream, non ho scopo off-stream. Ma ovvieto, lei, più avanti, Ivan. Da lì, se li abbiamo chaffo. Mi senti? Dio, tu discordo. Ho dovuto fare, sì. Allora, maggio, un altro mese. Basta! Oh, è l'ultima. Lei è l'ultima. Porco can. Guarda che mi dire no. No. Dopo. Oh, ma è... Così, ti vai in, vai in su oltre, mentre lo scontri. Ma, a me lo so, mi chiesto per dormire. Ah, sì. Andai. No, porca puttana. Ecco a due. Hola. Guarda me, devo rifiutare. No, sono su Discord, qua, raga. Su Discord e poi è andata in attesa l'aria dopo l'ho disposto. Mi metto a Matteo. Ma, avendo una domanda a Matteo, perché si è messo così quella trebbia? No, l'ho messa a Dennis. Io mi sono solo sport. Allora, Dennis, vuoi uscire dal Discord? Per quanto ti ha fatto a me? Per quanto ti ha fatto a me? Vai a vedere il VOD, tipo all'inizio, quando andavo a dormire, ha detto, ancora mezz'ora fa, ha detto, la trebbia la lascio qui. Oh, però io... Non me la sei spostata, Dio, boh. Oh, mi sono blocca a mia. Mi sa che mi metto a me in grado per farmi. Allora, aspe, pe, pe. Non mi si fa niente, mi si fa di boh. Qua, raga, mi sa che non dovi un altro mese fino a luglio, eh. Eh ora, madonna. Eh, oh, raga, ne ho ancora fatto un cazzo. Ah, madonna. Eh, oh. A ben notte chi? A ben notte, sì. Ben notte, ben notte. Io direi di buttar fuori uno che fa casini di nome Sameluca. No, Dennis, Dennis. Perché ha inquietato Bruno? Eh, ti stavo dicendo che mi ero bagato male. Ah, bombombe, tranquillo allora. Ah, dove sono? Hai messo caponucco? Orcoccan. Orcoccan. Camporco. Dai, raga. Ah, madonna, di Dio. Chi c'è? Eh, rilla. Ma, 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 signor Matteo. Capodanno. State calmo. Ma, 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 Matteo. Oh, ma, sta cazzo di, cosa di dormire? Ricordere, non stai mai comprare class. Perché il giorno che comprerete class, vuol dire che la povertà è con voi. Esatto. 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 Che c'è in attesa? Eh? Ah, ok. Lo spostiamo allora. Ok. Oh, non mi fa accedere al server? Perché? Perché è pieno! Vota fuori qualcuno! Come è pieno? È pieno? Ah, ma la gente... Mike... Allora, signor Mike, hai 5 secondi per dimmi chi sei. Ok, o sennò sta fuori dal server? Mi chissà... Oh, wow! Signor Mike? Era bella segnalazione, ragazzi. Mamma, preciso sarebbe... Gabri, se volete lo posso ripristinare? Non posso. Io, ok. Loris, chi è? Loris, po'. E' sicuro non è Paolo. E' sicuro non è Paolo. Paolo. C'è lo Paolo. Vabbè. E' sicuro non è le guys. Sì, Loris hai ancora 20 secondi scarsi. Sì, ma che l'altro 5 secondi è passato? Eh, ha risposto, ha risposto a quello. Ah, sì? Su Discord, Michele. Loris è lasciato il server. Perfetto, entra Matte. Perché? Entra, muovo te. È davvero un attimo. Gabri, sei su Discord? Come facciamo? Pu-pu-pu-pu-tu motivo di essere, Michele? Mi dice che è ancora pieno. E si rientra. E si rientra, sono in otto. Vai in buca. Dai, ma andavanti sto tempo. Eh, appunto. Eh, appunto. Ah, andavanti sto a dubbiare che mi sono agitato. Tessi che agitato? Sì, sono agitato che altro biare. Turbo, 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 turbo. Accettate! Che ti fa come del pupo. Accettate chi è che deve, eh? Michele, hai Discord? Non mi ha visto. Cippa in Malani, New Holland. Porca puttana. Vieni come del pupo. Oh, infine, New Holland. Wow, ok. Allora, vieni su Discord, Michele. Ah, ciappa John Deere. Vieni su Live e poi... Ah, ciappa John Deere. Ciappa John Deere. Vi da spostare. Oh, raga, ma è la richiesta qua? Hai scherzo, ho speso? Ti posso dire, ti metti una tesla di Gabri? La richiesta scattura. Dio, ma... Allora... Oh, aspetta un attimo. Saul, dov'è? Ma... Se dormi qua o se vado avanti, non ho capito. Eh, devo capire chi è che è fermo. Avanti o in rio. Io accetto il stampo perché devo cominciare a traviare. Eh, affetto. Io mi stai amando. Ma che campione è la traviare qua? È fumiglioso. È scaduta. Chi è che deve andare fuori? Ma perché viene fuori sempre... Allora, uno, due, tre, quattro... Noi cinque siamo salvi. Perché noi cinque? Perché noi cinque, esatto. Siete qua davanti. Perché noi cinque? Ma appunto. Come ti ho fatto i calcoli? Mmm. No, perché siete qua davanti e siete sicuri. Eh, mi sono andrì a girare la farm. Sto andrì a... Abbiamo messo il gioco veloce. Il mando un'altra richiesta. Se va, va, se no. Abbiamo messo il gioco veloce. Ma io ho messo un cagliere. Gabri, devi venire su Twitch. Ho perniti il link. Dio, madonna, puttana. Vi venire su Twitch e c'è il link. Oh, mate, state calmo. Sì, ma vive, non è già al John Deere, no? Mi era arrivato. E adesso non è più. Oh, Dani, non sta venendo in culo, eh. Ok. Oh, queste richieste è vero da casa. Eh, aspetta. Ma, aspetta che se che altro manda avanti il tempo, mi tocca a tagliare a chi fa. Mi mi sa pagato su Google, mi sa pagato. Ma non neanche i nomi. Oh, Mike! A fine live, fine live. Madonna. Mi vanno. Dai, dai, inizio. Cosa ha avuto, la Mike? Cosa ha avuto? Secondo ti? Eh, non so. Oh, ma, oh, mamma mia, ne avanti sto tempo che mi ho attaccato a tagliare. Sono le 5, pomeriggio. Che è successo qua? Tennis. Ecco, ecco, a posto. Vediamo un po' chi c'è in attesa live. Nessuno, ok. E tassi, un attimo. Boh, sono le 7. Danny, ti puoi spostare? Non c'è il... Non c'è il successo racconto, in ogni caso, raga. No. Senta che il mio, eh, non vede più. Tacca i fari! Tacca, fortutto, tacca. Vabbè, da caso, vediamo, ragazzi, adesso, se... Avi riparare tutti in azione vocale, però... Eh. Come farvi riparare? È un po' un disastro. Vabbè, a me sei così, mi capi. L'ho vinto a te. Dovrò rivalutare questa scelta, in ogni caso, ragazzi. Tacco, mi tacco. Danny, state fermo. State... Fermo. Tacco, mi attacca. Adesso, un po'... Giù non puoi attaccarla. Ma non è più, seriamente, non è più i trattori? Che è il John Dill, che è in Doria? Sì. Allora, al negozio, che ne finiscono? Se vuoi? Senti cumri, basta che ti scrivi agli skate. Porca puttana. Ma la parola è la barra. No, non va niente alla barra. Mamma mia, che lavoro. Tocca spostarla. A me, dobbiamo spostarla. Sta fermo! Luca! Cristottino, ora dobbiamo essere giusto. Ecco, l'erò pronto, l'erò pronto, l'erò pronto. Dai. Da cazzo, trippiano. Eh, dai, dai, dove è not? Sistemo. Arco, cazzo, m'ho fatta. Ne avremo de' notte, ma là. Eh, sei de' notte. Sì, sì, si fa lavoro de' notte, perché è caldo pomeriggio. Eh, caldo. Sì, è caldo. Sì, è la prima sera, la mattina e il dieze. Sì, vedi come Matteo dopo. Eh, gà... Eh, adesso. Tutto di colore. Tutto in colore. Olla. Stusini, fanno. Facciamo la paglia? Boh, dai, la facciamo, sì, la paglia. Sì, dai, da potenzioni ballatrici. Ma siete del 3bier come, guys? Perché? Sì, perché te assi... Allora, prima notte attaccare il caso che potrà fare al paie. Sì. E poi del 3bier che te assi al canto. Ah, là, là è colpa di Duca. Io là non so. Là è colpa di Luca. Sì, è sempre colpa degli altri, da. Vario, non si attacca mai il canto è un campo, eh. La colpa di Luca, qua. La colpa. Completa. La moglie. Tutta colpa sua. Dunque... Non si parte mai dal canton. Vabbè, dettagli. Non si fa più tempo, adesso. Ah, comunque... Appunto. Una roba, due. Mettiamo un po' di musica sottofondo? Sì. Metti un po' di musica. Boh, chi vuole sentire... No, 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 no. No, è qui da passare a me chiuso per... Chi vuole sentirla è in live. Eh? Sentirei live allora. Ok, stai qua. E a un passo... Da tu delle vacche... Tu come fai a saperlo, Matteo? Cosa? È abituato. Dove cosa fare con le vacche? È abituato. Sandra, tu da dove sei? Nei veneti. Guarda che... Coglion che le Drio metterla. Qua c'è? Come sta a dire? Come sta a dire? Sì? Vabbè, è là dopo. Allora, io vado per di qua. un po di lag venga 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 avanti venga avanti buonissimo le vacche posso coltivare oddio dio la promessa non arriva qui stasera c'è la fine qualche missione la ragazza da casa facciamo qualche missione per chi non entra a fare ma stiamo già facendo youtube ah è bom 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 perfetto 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 c'è qualcuno che non ha niente da fare mi scriva in chat ok non ha niente da fare allora ragazzi facciamo le balle o no perché fare le balle ragazzi sapete che è un disastro dopo ragazzi ha preso una missione di mietitura quindi se appunto nessuna niente da fare c'è quel missione da completare si si ha prestato oggetti ho pensato gli oggetti ok poi sono caricate non posso andare avanti tranquillamente anche se poi musica appunto si armate ma con il link gabrie ed in discord c'è il link col corretto però in chat quello devo cambiarlo quello devo cambiarlo il barbobietole non è in chat il signor paese di rinno comunque il signor giordano c'è la missione di di tribatura mi manca l'imballatrice ah è più avanti quella è più avanti più avanti ma restituisci qua la no devi andare a un altro campo esatto al 68 devi andare va bene dove cazzo io dai guardalo a che parte stiamo a fare oh 4 passi dai mate oh ho bisogno di qualche trebbiatore qua di qualche trebbiatore ho bisogno di qualcuno che mi parte via il rimorchio e adesso mi dice di attraviare anche io sto attrabbiando ma ma quelli lì che vanno indietro? con me che sono andrillo si mette a casa qui alla prossima live Enrico e gabrie devi entrare nella farm prima è normale se no che non ti fa entrare te entri in mezzo devi stare picasso e quell'arte là vieni qua a fare un lavoro devi entrare con l'omino giallo dalla mappa adesso sei bianco sai come fare vero? qui la mia fattoria esatto bravissimo adesso puoi stare su tutti i mezzi si fanno un uffio tu no ah la san bernardo è stato da dovevo verlo ci abbiamo un'altra ci abbiamo un'altra ci abbiamo un'altra mamma mia Matteo vai in rio vai in rio vai in rio vai in rio guarda che casino oh vanno per Dennis è qua guarda che roba che non fa Dennis dove è Dennis che fai danni? come vuoi vederlo? guarda guarda sta fermo che ho c'è per la curva aspetta fermo Matteo fermo Matteo fermo fermo Dennis vince non dire ti tre due amiche vengono Matteo ti tre vengono Matteo mamma dai ragazzi la faccio andiamo a badia andiamo a badia andiamo a badia ma per me non ti sei guarda aspetta ma su dove capri c'è su discord o qua su farming c'è Mattia si qua che c'è qua la curva non fia storta ti vai dentro in tal vigneto te plano per solo beh adesso beh adesso Matteo va che devi essere un po' il cioc ah ma no 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 madonna Matteo si doveva mettere i i paletti grazie grazie San Bernardo e sa quei laghi qui del comune no no benrico siamo in mezzo al campo non c'è paura grazie Mattia per i likes ciao Tommaso di ca e sa quei laghi i stradini ogni volta che va a fare un lavoro i basi da sui cartelli si ora eh via c'è prossimo qui bravo ma che avete mezzo il campo ci sento più bello che mi hai mezzo il campo si perché non so dove che lei arriva c'è laguna ma perché me la pigia mia voi siete particolari ecco salto il po' nessi no piccolo problema ciao laguna ciao bello più vicino più vicino più vicino più vicino ole grazie laguna sono fritto come li fai tu adesso che sono i bis minchia bro gg vai 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 tommaso fidati vai vai intanto appunto tommaso portiamo anche più avanti il server anche settembre ottobre quindi tranquillo lag leggero no se seria ciamar piccenin piccenin seria e seria chi eh si e oh aspetta e sarebbe che vai tranquillo tommaso guarda sgaffato dai sgaffato aspetta no mamma mia non so se pieno il server nicolas bella domanda 3 4 5 6 7 siamo in 8 si si nicolas puoi entrare puoi entrare puoi entrare puoi entrare se vuoi entrare anche laguna ma poi il polesine nome gai604 non c'è la password è mia piena in modo salire la mappa cos'è di fare stiamo un po' arando seminando poi di tutto comunque se lo vate lo vate 8 8 8 posso uscire nell'entrare si beh ce la fai lo bonetti vai vai esce e rientra velocemente però posso guida la trebbia se vuoi te la posso crashare quando entri e che ti esplode se ti esplode godo no scherzo bro dai scherzo grazie buonetti per la rosa volante ogni tanto si nicolas dopo te vai a casa dalla sua e te che togli la massa e te tiri dopo dal computer che pazza dio caro che figliata vece raga dai dunque vedo 1499 like o è un mio errore ma un like raga 2500 ciao andrea via dai culo via 104 104 via 104 la via numero di caso new holland e una giornata questa nuova della ch700 770 scusami bene bene va bene aspetta aspetta saul aspetta saul non andare la guarda che te mi bagna il frumento passa dietro di me occhio a non bagnarti a bagnarti andarla ok dietro ah si veramente lo dobbiamo andare cabri guarda in farm in tal caso non ho idea prurro saluto saluto poi andiamo a vedere se li son dritto bon chilling saluto guarda che carina piccolina ciao ita vado ita da quant'è che ho ti visto su twitch ti ho visto più su tiktok ultimamente su twitch lo sbaglio che cosa dove abiti a casa mia nicolas ma che cazzo io vivo in veneto di ocg in veneto in veneto in veneto intero no ma signor ma questo linguaggio molto scurrile è scappato male molto male è scappato è scappato non è scappato un porco dalla sala oh dio vado a fare i cortali copri ah ok capisco 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 poi poi salari dopo se c'è nicolas volentieri sì sì doveva essere libero no beh sardaina pensi che con carne non si che in fare e adesso candeloio c'è capino vende la classe non c'ho soldi ragazzi gesù come va comunque signor rida tutto posto piccante nacrose casca ma signor matte silenzio un secondo silenzio audio entra in giù e sammy luca esatto silenzio vai vai sentiamo sentiamo la cazzata ricordere ricordere perché perché il giorno che comprerete classe la povertà sarà con voi esatto veramente infatti infatti quell'altro c'è il vato bene jacopo comunque tutto bene tutto bene grazie raga c'è il c'è il jacopo bene bene comunque in caso raga 2 3 4 5 6 7 8 siamo in 8 raga il culo vuole entrare nel server è ancora aperto cosa 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 aspetta aspetta vi lascio ancora un attimo di movimento va bene no ecco tu metti che le callate è seri io posso si si nicola sa per tutti ma che cazzo ma che ah luca tutto a posto no no me ne bastano due me ne bastano due io qua ho uno scarmo dove c'è la cam il bambino grazie jacopo signor matte state calmo luca luca ti tocca la via studio l'altro di era in me l'auca barca e a un certo punto era la con di me campagna classe sente comunque l'era la caluca barca con l'amico del turbo panettone turbo cosa oddio matteo silenzio 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 aspetta 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 1 2 3 4 1 2 3 ecco l'altro qua gli attacca con tasti qua e lui che fai si gli attacca con tal le bike che gli ha fatto ma perché oh adesso silenzio che devo dire è nato ecco la cazzata in arrivo aspettate silenzio silenzio nato un silenzio silenzio quando sam inizia a tirare il fiat inizia a mollare ok ok va bene c'è Marco ma in casa è solita creare gli autobus raga non ho capito ricordere ricordere non stai mai comprare class perché quel giorno che comprerete class la povertà sarà con voi ma veramente a fare benissimo o pare oh Luca Luca orco canna l'ho messi bene allora ma come fa per mettersi un McCormick ok è lo strass te credo figlio scherzo è lui addio raga l'ho messi bene qua sempre lui vuole entrare ancora 5 minuti poi metti sto password 5 minuti per chi vuole entrare quando ti chiedono perché hai un fan e tu gli rispondi perché pensavo che non andassi mai in officina ma mi sbagliavo effettivamente è vero parlò con lui che stava pensando di comprarci un bel fan appunto pensava non l'ho fatto non l'ho fatto signor Matavoto pensava infatti pensava oh qui ti dici come fai a permetterti questo mezzo ciao Alessandro grazie Elia Elia ma lei come fa a permetterci questo mezzo fa che viene però è comune no no esagera sì lo so va bene è simile era tipo una roba là in inglese che non mi ricordo mai il nome no 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 sì ah addio dio no no eh sì sì però non mi hai in mente comunque è greca l'altra versione eh comunque per entrare nelle server molto semplice basta avere un pc o una console e anche e multiplayer player guest 04 ma poi polagene dai dai fos parai comunque sì e beh adesso mi è un po' esagerato ma i stradini mi fanno mai un cazzo dice barba sì qui che gli fa a finire po' cazzo io in giro sì però tra 15 minuti la gastacchiamo con la pinta con la la 4 nove ma è solo 10 mesi 10 mesi parlo a quello che si sveglia a mezzaggiorno tutti i giorni ah ho capo ok ma c'è un po' di veneti no 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 nemmeno uno nemmeno uno nemmeno uno ho comunque twitter quindi fai solo il wrapping cioè fai solo la livra giusto ho sentito che sbaglio come no scusate un momento se tu hai detto che il pentiatino li fai dai 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 signor mattes dai prendila tutta quella barra dai madonna c'hai ragione c'hai ragione c'hai ragione attenzione mio son veneto son friulano e mai è prosciutto cotto ecco e dopo 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 devo dritto e se te vanno i freni per buttarli la beve dritta la beve dritta anche il primo da curva dritta un certo esperto ricordere che conciole che la povertà le coagliate avevo un capito basta ripeto quanta quanta mila volte orco cane ricordere che la povertà ma che ricordere perché mica l'intervista non contare la merda che come ma perché quello sta facendo no no bro 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 ma a te che è un problema fermo 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 si beh fermo 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 questa guarda cogliere là fermo ma non di fare ma ma non è possibile che ricordere minchia ita abbiamo fatto 20 milioni di euro di racconto 20 milioni qua dai raga grazie gatto per il ride benvenuti eh si però qua va bene va bene appena tutta appena tutta la si va bene così metta i due nuove non troppo però dai vai dai dai luca dai forza luca ma signore maria con che gente incompetente ma cosa vuole arrivo 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 è il nostro campo questo è il nostro campo il nostro campo se è un po' un casino va bene come andata comunque la live gatto oh ma comunque il signor gatto vende il suo computer incredibilmente perché il gatto vende il suo computer qual è la motivazione quando sono in live e quindi cosa fai no 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 ma ho una corti meridionali che non io voglio fare niente la mattina e la sera eh non ti fa sempre lavorare eh beh ovvio c'è signor gatto cosa fai dopo senza computer o te ne fai un altro signor luca eh mi facciamo la domanda saulo andiamo fra sinistra scusi lei nella sua azienda assumerà un meridionale no perché mi fa un cazzo stamattina la sera beh io mi dissocio in ogni caso signori signori no io sarei anche d'accordo no io io mi devo dissociare io alzo la mano e la spargo verso l'alto io mi devo io mi dissocio assolutamente a queste dichiarazioni non so ti ti alzo la mano e ti attendo basso non ti saluti 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 arco cano ma non ti capiamo la tempestà addio ma come è per poco non ti saluti non ti saluti io vado io vado avanti diritto no no jordan jordan occhio occhio jordan io vado dritto jordan vado per di là ne ho giudretti ok ok è buona ricordo 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 non sai mai comprare la classe non capito basta basta raga ho capito però basta questo mamma mia Tutti al mar Tutti al mar A far cosa? Oh dai Ma come? Ma in che senso tu sei dentro il fosso comunque? No No dai dai No dai bro Ma io qua tre Ma va bene Mamma mia Grazie che per condivisioni Ma mamma mia questo Dennis Che disastro Grazie Soi Sei entrato? Cazzo di patria e merda Ma che succede qua giù? Aspetta un attimo Aspetta Ma signor Bruno? Oh Sono andato a tirar fuori quell'altro Chi? Chi? Mi è in casa che è dentro il fosso Mamma mia Non ho veramente parole per iscrivervi Mamma mia Sai giù sarà Sai giù sarà Sai giù? È scoperto Ma chi delati? Gole Eccolo ma porco Ma se mi cazzo ti fossi Mi è andato a far fuori che non è il fosso Non è il fosso E' il bico lì Non è dentro il bar Dove è il liquidi? Ma che cazzo sono da cosa di fare? No non vengono Cazzo di fuggire me Vai I gonna simia intorno Beh non mi Ma veramente? Matteo ma ha tu finito Abbiamo l'ultima sera No Matteo quella mappa la facciamo solo lunedì sera Ma bella Olè Solo lunedì sera Ma intanto questa è l'ultima sera Cioè L'ultima sera l'ultima Per Due Due settimane Prosecco In ogni caso se Vuoi vedere tutta la mappa Sapete la serie su youtube Tutta la mappa Go nasci mi intorno Vuoi vedere un episodio Tutta la serie su youtube No Ma che cazzo Cosa vuoi? Ma dove? Guardi che mi mi domandi C'è butto? Ah io che ne so allora Pro Ricordere Di comprare il zame No No ricordare Lo dare il zame Ah beh E' diverso Vabbè è uguale Ce ne prive No È simile Il tigre Non si pentirà Esatto Chi la dà Lo prende Ah si E' su sky Giù Qual è? Oh ma io chiedere un farfallo a tutti i sky Ah io che ne so Ma il signor Jordan è pieno vuoto In tal caso Jordan venga qui Aspetta un secondo che arrivo io dai Bom 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 Che io sono pieno Cazzo un bulgago Credo che fai pochi sui trattori Va male Va bene Ah gonosce il mio intorno Vabbè che è il signor intorno La canzone dice Ah ma tu non ce l'hai il signor intorno Ah ok bom bom Allora con Saulo Sarà un decolore Sarà un decolore Cosa? Aspetta che ho Sì 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 tranquillo Ho a che fare con un haters Con un haters? In che senso bro? Eh sulla live Ma ce l'hai dove? Eh su tiktok Ah Non si può ridere su tiktok vero? Non penso Eh? No 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 Non è come Twitch No no sto pensando Una cosa mia No niente Come ti chiami bro Su tiktok? Come va? No come ti chiami Che ti vengo in live? Eh Kowalski 83 Ah bom 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 A posto Ottimo Mamma mia No è perché devo cambiare nome Ok sei vuoto adesso Sì sì Dai si può ripristinare che sono Della mission Perché? Si è incastrato dove? Ne fossero due Ah dio Aspetta Fa Fa Dov'è io a sinistra È pieno? Eh no Dio Non in caso È un negozio È un negozio Sant'in Dio No Dio Ti è arrivato il mio follow? Credo Penso di sì Spero Come no Ah vabbè Facciamo una cosa bella No tu devi andare avanti Bravissima Se fai di movimento Eh no bro deve essere particolare Grazie Daniel Oh Matte Sei ancora vivo Matteo? Sei ancora vivo? Eh non so Ah è bonbon Aspetta un attimo Dai Luca Mamma mia guarda che lavori Frito là frito là Dimelo Ah no Frito là frito là Orcocca Infatti siete la fritola? Sì No no Come no no Sì sì Questa canzone Ovvero Ivan Bravam 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 Ne 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 Dai Ma io torno via Bravam Bravam Ma io battia tipo l'esine Bravam 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 Grazie a casa Carne frita Carne frita Frito è frito è Ma dove hai scombato il cassone? No mi te l'ho dito prima che hai del protea Ma dove hai una figlia il cassone? Hai in cassone? Ma te l'hai ripessinato bro Hai anche mia chi? Ciao tizio Oh ma Mi scomiglio il cassone mi in culato Che hai sti strosi con le cassone? Te l'hai ripessinato? Te l'hai ripessinato bro Ma che mia chi? Oh Ma mi scomiglio con parla? Ovvero? Ma dai culo è il cassone o te l'hai culato? Che l'ho dito a me? Che l'ho dito a me? Che l'ho portata il camper? Foglieri là Ma che do coglioni che ti fai finire fa toltata per niente che ti fai fatto Ma du marco dimmelo beco Ful il cassone anche Cazzo di giun di de merda Mamma mia Scusa stavo sto facendo Oh ma turbo non ti andarla Faccio un disatto indietro un attimo Ma perché lo ha a sala? Oh turbo Porta me o qua? Ma porco demonio di dio E qua Intel 117 Dai asci io là che la cio' il coladro Mamma mia Dai dai Dennis ti prego però Sì ma dio mamma mia cio' il lavoro sto qui dopo mi si lo fa un cazzo Ma è lo stesso ma signor Dennis non è sembra un caso? Sì Ma come sì? Ma godo che si sale il tuo fosso e i figa Adesso sganciano i morti di un po' Godo che si sale il tuo fosso Cagare va Cagare va Non ti tocca sono anche il fosso Adesso ti resti di E' suca E' in figa Vabbè Comunque ti vedo anche dalla Ti vedo Ricordo la mia chat però Ok ciao tizio Ciao zampanza Ok Se volete a mentire Concello di nuovo Martedì Zampanza O forse anche domani Comeriggio Zampanza se domani comeriggio sono in live Vuol dire che Che sono col server Se vado in live Però non penso Dove scarico il cassone C'è in farm Il silo Scusate Come Turbo Ho ragazzi Ho una fertilizzazione sul 120 a farm Ho un attimo No no Sì 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 Lo scarico in farm Scarico in farm E' una cosa Un po' Abbastanza Realistica Meglio così va Ma perché Ho visto una missione fallita Che è successo Te senti fallito Oh Mi è uscita Oh Oh Marocchini Sì Arriva Matei Sì dovevo ancora Oh Bruno Faccio un sabotaggio Occhio Caboia Eh Me l'ho detto Occhio eh Grazie Grazie Ciampanza Grazie per averci passato Bello Buona serata Believer Ok Guarda poco ragazzi Stacchiamo Adesso faccio magari Magari riempiamo il cassone di Saul Poi Stacchiamo Un nuovo gioco Parmi Siamo 23 Gabri Ma perché ride Non problema Me lo dica Ma andrìo Ma andrìo Signor Matte Signor A Tu Sì 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 Sempre problemi Con voi Sempre Veramente Ciao Ciao Damiano È vero che è 104 È vero È vero È vero Danny Se vuoi ubriaco O 104 Uno delle due No 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 Questo Questo è impossibile Questo è veramente impossibile Per fiore professionista Guarda Mi Gomba Panin Con Cosa Presa Ecco Dimivano Quale Cosa Presa Che Bondola La Manetta Cinque Siete Strati Olle Oh L'altro Dice Andate A una festa Cosa Ivana Ancoso Una Costagina Una Costagina Allora E Una Madonna Poglia E Vabbè Ovvio Dure Come mattoni Vabbè Effettivamente Sì Lei è a missione Turbo Ma il signor Turbo Ancora qua con noi In teoria Ah in teoria Bomba In teoria Vabbè 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 E Dopo Salutami 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 E dopo Matteo Covid qua Ma può essere Covid raga Ma 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 Può essere Sì E' Tota Sorella E' E' Intratto Non poco Come il gesso E adesso Ma Che l'altro Si è sposti E E E Bravo Saul Se Cosa Miglior Allora Né scendere né salire Non puoi né scendere né salire Puoi scendere e salire Ciao Fekedo Fekedo Ma 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 Avendo ma Avendo una domanda Signor Dennis Quanto Hai bevuto Stasera Da 100 1000 Vabbè Allora Vabbè E Piampia Come di acqua 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 Santana Lo sponsor Cioè No 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 Allora Ho capito tutto Vado in farm A svuotare Vado 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 Bene 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 Mi fa piacere Ciao Fane Così Me racconti Edo Come niente In che senso Comprò niente Cos'hai fatto oggi No No Beh C'è una via d'uscita E Più o meno Vabbè Faccio i canali Farming Scaricato Da Steam Io leggo Ivan Ivan Biasotto Putti 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 Pagato Prezzo pieno Perché c'era Da primo giorno L'uscita Quindi 40 Qualcosa Anche a 30 Più o meno 30 30 30 Lini Ma Ho fatto i tetti troppo bassi Ti sei bloccato? No No Manca poco? No 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 A posto A posto Sicuro Sì Sì A posto Sto arrivando In Perfetto Perfetto Guardiamo se Devo Armi qua Seringa Anche lo finisci Boh Finiamo questo campo qua raga dai E poi Stacchiamo E c'è Non 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 Ovvio 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 Però ho messo adesso la password Quindi Ti aspetto martedì sera Oro 21 Prima frenata Ciao Fran Alla seconda vai dritta Questa qui si youtube eccetera In che senso? Non sto capendo i bambi Non sono forte Beh Tranquillo Edo Necilla Alle 21 Alle 21 Dalle 21 Fino alle Oh Turbo Tu fai la mission Eeeh Turbo No Ciao Matteo Ciao Vincere Ok Matteo Ho paura Ho paura Amon gas Mirko Domani sera Ma Chi sarà il primo bannato Vero Del server Ma ti devo bannare Dennis Ti devo bannare Veramente Ho i miei dubbi Ho i miei dubbi L'ho brato ieri Mirko Fortnite Penso portarlo Settimana prossima Adesso vedo Anche se penso di portare Farming Settimana prossima Ciao Elisa Ciao Elisa Ciao Elisa Io perché ti visito Prima Non so Un po' di besina Ma era per quello Che andava Era per quello Che andava giù Si Un po' di besina Da lì Che Da casca Ah mamma mia Raga No Tu Sicuri Ma Signor Luca Tutto a posto Alla giù in fondo Sì Potrei arrivarmi Va bene Dopo L'amena ascolto Da casa Mettere la lista Iban Ti dico Ma Che è Saul Che parla Di un giugno Ah Allora Cudi Vado Di un giugno Stai ma Oh Bro Oh Matteo Vado Di un giugno No Ciao Elisa Vettore Ma il signor Dennis Cosa sto facendo Nulla Stai portando a casa Trattore E' nostro Perché il lato Ciuffico del Valtre Faseva schifo E mi era in questa strada Vabbè Lo siamo Sono presi bene Molto bene No No Stavo avanti a coltivarmi eh Ma Avendo Aspetta Ma signor Samer Luca Perché stai andando avanti Indietro così Vabbè Questa volta Un'altra anno Appunto Sì Perché no Eccolo Temporale Vabbè Nivana Prossimo la paglia Che dopo Dio Prossimo la paglia Prossimo la paglia Dopo Non cattissimo Nianca Eh Prossimo la paglia Poi si vede Se Tira la sua No Vabbè Tanto uguale Paglia Non paglia Oh Cosa vuoi No Io ho detto Vediamo Intanto la facciamo Guarda Guarda qua il negozio Che disastro Che è Cioè Male Ah Dio Dio Sì Perché non ti ha visto La fila Che è Nel negozio Sì Sì Dopo Live Andrò a vederlo Giro Dopo la mappa In giro Sicuro Mamma mia Ma le missioni Sono finite No Ce n'è uno Che sta andando a turno Bon bon Che voglio fare Ma se ti do Grappi al parfa Che Eh Fa coltivarsi Qua Da Dennis Sì Che mi danno Ammaco L'artice Ah Qua raga Sono messi Uno bene Di più Sapete No Come no Perché no Che no Vabbè E se sì E se no Eh sì E se no Eh sì E se no Eh sì Eh sì Eh sì E se invece È nì Eh sì No E che spazio la calcia Col freddo Giù Giù Vigola Io che ne so Secondo Mille Bruno Ah potrebbe anche essere Il lago con i giufficchi lì Madonna Potrebbe anche essere il signor Bruno Il vero signor Matte Mamma mia Che armada la messa Privata Attualmente Cioè Che c'è dentro È dentro Non è nessuno Adesso È morto che dite Può fare Sì È normale È normale È normale Però Sì Che non ho neanche Assiminatrice Ollè E adesso È morto Ragazzi salvo Occhio Ecco il photo for computer Adesso Buon 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 Ho fatto un piccolo sabotaggio Ma signor Sarà Maia porco di morio Già un po' Eh portami di Portami nel campo Scusa di via Ha restito qua Portami di nel campo Ora voltiamo Scusa di sito Scusa di via Facciamo Ce la facciamo Ma te com'è Messo Ciao a te Saluto Ma farchia Ciao a me C'è Marco C'è Rosario Mamma mia Che lavori da culo Che t'hai pesante Dio Schifo Che mi fa Ma Luca È ancora vivo Ci siamo qua Ah è Buon Ti sentivo Cioè Il tessista Proprio silenzioso Sto qua è morto Dai Ness Ma sapete Ma io non sono Siamo in otto persone Nove E beh ovvio Ci sarà motivo Ciao 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 Porti su Porti giù Porti su Quello è il problema Oh dai raga Siamo fatta Abbiamo quasi finito Perché il problema Se adesso mi tocca andare a destra Siamo fuori Rastricchita Eeeh E manca pochissimo Madonna che brutto Che fende Matte Orco can Sì, ovvio Sì, sì Sì, sì Viniamo qua, è buona Buona Ragazzi, chi deve scaricare, scaricate Io la so pure la tripe Anche qui faccio sbataggio così Ce l'abbiamo, occhio Buon Allora Ecco, mi ciapa, mi ciapa, mi ciapa Beh Carino l'usato Non è brutto Allora, guarda, già siamo e Luca che sono fatto il giro E mi parto, dico Buon Cioè, da Sarebbe da essere stato Fica, ma spavendo me ti hai fatto, Luca Allora, ragazzi Tiktok, vi saluto Saluto E sto qui a essere a rimorche, ma dove vale qui Alvino Allora, Twitch Non c'era nessuno idola, la passa Non c'era nessuna parte io Guarda chi piace fare un puntino Madonna, che pignolo All'urde Vediamo adesso A che vi mando Io sono il top Nella classifica di farming Com'è che entro L'altro L'altro